Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come state? Spero bene, oggi sono qui solo per voi registrare questo video dove rimuoverò le tue energie negative, i tuoi pensieri negativi, aiutandomi con qualche oggettino, diciamo. Ma prima di iniziare indossa un paio di cuffie o auricolari e magari stenditi sul tuo letto. Che dici? Ok. Allora, io chiedo scusa se per caso in qualsiasi punto del video voi sentiate dei rumori di sottofondo, ma fuori sta piovendo e non possiamo farci nulla. Quindi, mi dispiace dai, però adesso iniziamo. Parto con andare a grattare, grattare le energie negative e a prenderle. Pericol사 Pericol사 Granimote Granese Grazie 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 La . 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 preso guarda i movimenti che fa il mio dito ancora prova a focalizzare le tue energie sul mio naso così a me basta prenderle mi basta prenderle perfetto adesso voglio provare a trascinartele via con questo pennello quindi via 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 non ci servono via 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 Concentrati sulle mie mani. Ok, adesso prendo... Queste pacchette e proverò visto che hanno la punta più piccola delle mie dita. Proverò ad andare più in profondità e a prendere tutte le energie negativi, pensie negativi, eccetera. Va bene, ti prometto che non è invasivo. Proviamo. Club... Club... cupica, cupa 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 Scusate Ok ci sono Adesso prima di prendere un altro trigger vorrei continuare a fare qualcosa con le mani Posso fare qualche carezza per rassicurarti perché sono riuscito a toglierti un bel po' di cose brutte nella testa Corizza 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 prenderò la candela scoppiettante e questa volta faremo in modo di bruciare proprio tutto quello che ti fa star male focalizzati sulla fiamma fiamma sono sono io adoro il sogno che è il sogno che è guarda la fiamma stiamo purificando tutto l'ambiente con questa candela adesso la spingo non riuscivo a spegnerla ok facciamo un'ultima cosetta e poi sono sicuro riuscirai a dormire voglio nuovamente farti guardare il mio dito l'altro l'altro va bene dai io adesso dico cucù cucù ora tocca a te iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della oops community e diventare un oopsino se sei un maschietto invece una oopsina se sei una femminoccia poi poi mi raccomando lascia un like se il video ti è piaciuto un bel commento e niente il video di oggi finisce qua ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist è qua il tasto per poter andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi sia video che shorts io adesso ti do un grande bacio e buona notte buona notte buonanotte 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 Grazie.